è stato bravissimo maestro prego brava brava ragazzi bravissimi 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 bravissimo collega guarda che detto da pippo bato fatti fare la videocassetta bravo collega allora qui abbiamo il risultato si c'è una targa c'è un premio voglio che sia tu a leggere il nome no dai no 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 devi farlo tu comunica i 100 hanno deciso hanno votato ripeto mi piace sottolineare il concetto del maestro esdralov non finisce niente non si perde non si vince il ballo cantare e recitare il sesto armonico si continua a suonare a dirigere come la nostra veravigliosa Mirka Rosciani al di là dei premi dei successi o delle porte che si chiudono serena utieri il maestro beppe vesicchio daniel esdralov tutti voi voi a casa voi qua che ci avete aiutato tutti i nostri reparti li abbiamo ringraziati il nome il nome il nome lo dico il prodigio dei prodigi è michele san daniello è bravissimo è bravo sentiremo molto parlare di te bene e no no per dire eccolo qua il maestro san danielo il prodigio dei prodigi di questa terza edizione prodigi la musica e vita aiutiamo l'unicef sempre aiutiamoci tra di noi buonanotte pippo paudo buonanotte suavvencita buonanotte suavvencita buonanotte suavvencita buonanotte suavvencita